L'Udc torna alla carica dopo il NOL, referendum l'abbandono dell'ex premier Renzi e l'annunciato a ritorno alle urne dopo il raggiungimento della legge elettorale, squadra in campo per accaparrarsi terreno o meglio per colmare il vuoto creato dalle spaccature del PD nazionale. L'Udc annuncia di non volere alleanze e di concentrarsi solo sulle reali questioni che riguardano gli italiani scontenti del governo PD. Siamo stati sei mesi a discutere di referendum e noi abbiamo assunto una questione molto chiara, cercando di spiegare le ragioni del no ma in maniera seria, entrando nel merito molti altri hanno fatto altre cose. C'è stato un voto molto chiaro in questo referendum, non vorrei che per i prossimi mesi in Italia dobbiamo assistere ancora a un dibattito all'interno del PD, a uno scontro all'interno del PD che non ha nulla che vedere i problemi della gente. Noi vogliamo tornare in Parlamento, perché stiamo ricostituendo i gruppi dell'Udc nella Camera di Deputato già da questa settimana, per tentare di riaffermare che è al centro della politica, cioè prima la risoluzione dei problemi e poi le beghe interne dei partiti e lo vogliamo fare affrontando questioni di ordine concreto. Non è possibile stare in un paese in cui ci sono 7 milioni di persone che vivono sotto la soglia di povertà. Noi abbiamo il dovere di dare risposte, affrontare il tema della disoccupazione giovanile, non si può stare in un paese con il 40% dei giovani disoccupati, con una riforma che sembrava 6 a quella della Job Act e che oggi invece ci deve indurre a riflettere che va cambiata quella legge, perché non possiamo avere un milione e mezzo di voucher in giro con della gente che andrà a finire per strada tra qualche mese. Quindi dobbiamo affrontare questi argomenti, sono le questioni che stanno a cuore nell'Udc oltre a quelle di riaffermare la difesa dei valori importanti che sono dietro lo scudo crogetto, la difesa della vita senza se salamà, non vogliamo sentire parlare di gender, vogliamo rimettere al centro della politica della famiglia che significa fare cose concrete a sostegno delle famiglie soprattutto che vivono in situazioni di difficoltà e lo faremo da soli, non guardando né più a destra né più a sinistra, quindi riaffermando con forza che c'è l'esigenza di un partito di centro popolare, democratico e cristiano che deve tornare ad affrontare i problemi seri delle persone.